Abbiamo fatto tutto il possibile, dicono i medici del Sant'Orsola dopo la morte delle gemelle siamesi. I genitori fanno sapere che tutti i figli sono un dono meraviglioso, sempre, anche quando hanno dei problemi. Si era rifatto una vita e una famiglia in Spagna, ma dopo due anni di latitanza adorata di Maurizio Ragno, è stato interrotto dai carabinieri che lo hanno arrestato. Il 56enne deve scontare quasi 10 anni di carcere ed è sospettato di contatti con un boss dell'Andrangheta. Per fare cassa e compensare i tagli imposti della manovra economica, il Comune di Bologna pensa alla vendita degli immobili pubblici, in primis gli alloggi Acer che gli attuali inquilini sono disposti a comprare. L'ex ribelle berlusconiano Lorenzo Tomassini critica duramente la collega Valentina Castaldini, che ha partecipato a Sorrento ad un'iniziativa di comunione e liberazione facendosi pagare la trasferta dal Comune. E' bene fare chiarezza, dice Tomassini. Presentata la federalizzazione della T. Ugo Bassi Rizzoli Indipendenza di sabato 17 e domenica 18 settembre, mobilitati i commercianti che si stanno organizzando per trasformare il centro storico di Bologna in un salotto piacevole e suggestivo. Buonasera, benvenuti a ETG, in apertura questa sera un'ampia pagina dedicata a una vicenda che ha commosso e coinvolto emotivamente per molto tempo tutti i bolognesi. La vicenda delle due gemelline siamesi ricoverate all'ospedale Sant'Orsola, come sapete già dai quotidiani di questa mattina, la vicenda ha avuto il triste epilogo ieri sera, i medici hanno fatto il possibile per salvarne almeno una, ma le condizioni generali delle due piccoline si sono aggravate fino al decesso appunto di ieri sera. Ora sentiremo anche le voci dei medici, dei genitori tramite appunto un rappresentante e anche le parole del cardinale arcivescovo Carlo Caffara che ha diramato un comunicato proprio in serata. Ma intanto vediamo il primo dei nostri servizi curato da Gabriele Sciarra. A poco più di due mesi di vita sono morte nella tarda serata di ieri le due gemelline siamesi ricoverate al Sant'Orsola di Bologna fin dallo scorso giugno. I medici hanno tentato di tutto per salvare almeno una delle due sorelline unite per torace, addome, cuore e fegato. Un quadro disperato fin da subito, ma la speranza dei medici era quella di farle crescere di peso il più possibile per tentare in seguito un intervento di separazione. Una strada suggerita anche dal Comitato di Bioetica dell'Università di Bologna, condivisa dal Comitato Etico Indipendente e dai Sanitari, un orientamento cui ha dato il sostegno anche il Cardinale Caffarra per il quale ogni sforzo per salvare almeno una delle due gemelline andava considerato come un atto di amore a favore della vita. Ma né Lucia né Rebecca ce l'hanno fatta. Le loro condizioni, tra alti e bassi, si erano progressivamente aggravate fin dallo scorso metà agosto. Problemi sempre contrastati dai medici, il cui scopo, come detto, era quello di farle crescere il più possibile fino al recentissimo peggioramento generale con modesta risposta ai farmaci. Quindi la morte, i genitori ravennati che hanno altri due bimbi in tenera età, avevano saputo fin dalle ecografie che i figlioletti erano uniti, ma avevano comunque scelto di portare a termine la gravidanza, una scelta consapevole, e da leoni aveva sempre detto il professor Lima, che era capo dell'equip medica che seguiva le bambine. E dunque, come dicevamo, i medici hanno dichiarato di aver fatto tutto il possibile. Sentiamo allora l'intervista realizzata da Giuseppe Piloni al professor Mario Lima dell'Unità Operativa di Chirurgia Pediatrica del Sant'Orsola. Professor Lima, le gemelline purtroppo non ce l'hanno fatta. No, purtroppo non ce l'hanno fatta. In ultimo non sono riusciti a superare quelle crisi che durante il mese di luglio e durante l'inizio di agosto erano riusciti a superare, perché è subentrato un fatto che ha interessato ambedue gli organismi. E ce l'ha sperato invece che l'esito fosse diverso? Ma sa, con il mestiere che faccio, aver lavorare con dei bambini, lavorando, facendo delle tecniche chirurgiche particolarmente avanzate, credo che sia giusto sperarci, anche nell'ambito di quelle che erano le potenzialità e le possibilità. Addirittura avevamo anche accarezzato per un attimo l'idea che se le gemelline fossero cresciute, fossero andate avanti, si poteva anche riuscire nell'impresa di salvarle entrambe. Comunque è stato fatto tutto il possibile? Guardi, ho poche certezze nella vita. Questa è una di quelle, e cioè sia dal punto di vista medico, sia dal punto di vista chirurgico, dal punto di vista tecnico, ma soprattutto, e di questo ne vado fiero anche per il discorso che poc'anzi ha fatto il direttore generale, da un punto di vista umano, credo che si sia fatto tutto quello che si doveva fare e di quello che si può aspettare un cittadino di questa nazione dalla propria sanità. C'è qualcosa comunque che si è imparato da questa vicenda sotto vari punti di vista? Ma sa, un'esperienza clinica chirurgica lascia sempre delle tracce e sicuramente io credo che noi abbiamo acquisito degli elementi che permetteranno ad altri colleghi o a noi stessi di poter superare altre situazioni come questa. Hanno chiuso il breve spazio della loro vita terrena le gemelline siamesi Lucia e Rebecca. Sono le parole del Cardinale Carlo Caffarra, che in serata appunto ha diffuso una nota in merito. Ora la nostra preghiera, dice Caffarra, le consegna al Signore, mentre la riflessione si dischiude sul mistero della sofferenza e della morte dei bambini innocenti. Un mistero di fronte al quale la fede, venuta meno ogni umana e impetrata speranza, si affida a una speranza più certa e più vera che non tradisce mai chi in lei confida. L'Arcivescovo e la Chiesa di Bologna sono vicini nella partecipazione con la preghiera ai genitori di Lucia e Rebecca, che hanno saputo affermare con testimonianza vivente e per tutti esemplare che c'è una incommensurabile differenza di valore tra la soppressione di una vita, per quanto essa possa essere problematica e tormentata, e l'accompagnare quella stessa vita, così come essa è, fino là dove è umanamente possibile. Queste le parole del Cardinale Carlo Caffarra. Carlo Caffarra che domani celebrerà i funerali presso la Camera Immortuare dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna alle ore 12. Venerdì ci sarà poi la partenza per Russi nel Ravennate, dove vive la famiglia. I genitori tramite Enrico Masini, che è esponente dell'Associazione Giovanni XXIII, a cui la coppia è molto vicina, fanno sapere che tutti i figli sono un dono meraviglioso, sempre e anche quando hanno dei problemi. Sentiamo allora l'intervista a Masini. Enrico Masini, lei è amico dei genitori, delle gemelline, nonché è stato un po' portavoce anche in questo periodo, i genitori come hanno vissuto questo esito triste? Sì, è stato un momento doloroso per quanto fosse difficile la situazione in cui vivevano le loro bimbe e ne erano consapevoli fin da gravidanza inoltrata. In questo momento di dolore tuttavia vivono un momento di serenità interiore per aver potuto dare alle loro figlie tutto quanto era possibile dare di affetto, di amore e di cure, a partire dall'accoglierli durante la gravidanza, dallo scegliere la struttura migliore dove farli nascere e poterli accompagnare davvero con amore e affetto giorno per giorno in questo tempo che è stato dato loro di poter condividere con le loro figlie. E quindi il primo ringraziamento proprio che loro mi hanno chiesto di esprimere è nei confronti delle loro bimbe. E quindi un davvero ringraziamento per aver potuto fare questo pezzo di strada insieme. Poi ringraziano tutta la struttura sanitaria del Sant'Orsola per essere accompagnati non solo dal punto di vista sanitario con grande professionalità ma anche con grande vicinanza. Sono proprio le loro parole, si sono sentiti in famiglia. Loro ma anche gli altri due fratellini un pochino più grandi che hanno potuto vedere le bimbe sostare così serenamente anche all'interno dell'ospedale. E quindi così loro ci tengono anche a lasciare un messaggio rivolto a tutte le persone che in questo momento si sono avvicinate a loro e hanno manifestato una vicinanza, una solidarietà e si sono uniti alla loro speranza di vita che è quello che ogni figlio è un dono e vale la pena di essere accolto ed è una gioia anche quando ha problemi di salute. E questo soprattutto a quei genitori che hanno una diagnosi problematica in corso e quindi incoraggiandoli ad accogliere i loro figli. Adesso voltiamo pagina, è finita la lunga fuga di un latitante di 56 anni Maurizio Ragno, evaso due anni fa dagli arresti domiciliari che stava scontando a Bologna ma destinatario di una condanna a quasi 10 anni di carcere per droga e rapine. L'uomo è stato catturato in Spagna dai carabinieri che non escludono coinvolgimenti dell'uomo con la criminalità organizzata. Vediamo. Si era rifatto una vita in Spagna ma dopo due anni di latitanza la fuga di Maurizio Ragno, 56 anni di origine pugliese e da 30 anni gravitante su Bologna è stata interrotta dai carabinieri del Rosso e dalla polizia iberica che lo hanno arrestato nella città di Almeria. A lui gli investigatori sono arrivati nell'ambito delle stesse indagini che hanno portato nel novembre dell'anno scorso alla cattura del boss dell'Andrangheta Nicola Acri che fu bloccato proprio a Bologna. Ragno era evaso dagli arresti domiciliari che stava scontando nella sua abitazione in via De Nicola a Casteldebole nel luglio del 2009 ma a suo carico oltre all'accusa di evasione ci sono reati ben più gravi. Deve infatti scontare nove anni e mezzo di carcere cumulo di una pena residua di quella che in origine era una condanna a ben 35 anni poi ridotta per benefici di legge per rapina, detenzione di armi e munizioni traffico di stupefacenti, falsità materiale. Nel 2006 era stato arrestato con l'accusi di avere commesso con alcuni complici ben 19 rapine in banca fra il Bolognese, il Modenese e la Romagna per un bottino di 150 mila euro. Ma si è scoperto che anche in Spagna era finito nei guai durante la latitanza per possesso di documenti falsi e per maltrattamenti alla compagna. L'operazione è stata guidata dal ROS dei carabinieri che ora cercheranno di fare chiarezza sugli eventuali legami tra Ragno e il boss Nicola Acri. Diciamo che questa cattura si inquadra nelle indagini avviate dal 20 novembre 2010 all'indomani, o meglio, dalla concomitanza dell'arresto di Acne Nicola qui a Bologna e gli sviluppi, quindi, gli approfondimenti che abbiamo avviato da quella data in poi per ricostruire nel capoluogo di Bologna e anche nel resto della regione quella che era la rete relazionale che consentiva comunque ad Acne Nicola di coltivare degli interessi comunque presumibilmente anche di carattere criminale qui in regione. Due esibizionisti, protagonisti di diversi episodi avvenuti ieri a Bologna sono stati denunciati dalla polizia il più bizzarro in Viale Europa in zona fiera dove un bolognese di 52 anni nascosto dietro una siepe esibiva un fallo finto alle automobiliste di passaggio una chiamato il 113 l'uomo è stato individuato e denunciato per atti contrari alla pubblica decenza ha poi ammesso di aver fabbricato lui stesso l'oggetto che è stato sequestrato altra denuncia per un ferrorese di 59 anni sorpreso a masturbarsi in pieno giorno in Galleria del Toro nel centro storico. Ancora cronaca, scene da Far West ieri sera in via del lavoro dove è scoppiata una furibonda rissa tra stranieri un giovane marocchino è stato colpito con ben 5 coltellate ora in gravi condizioni all'ospedale Maggiore questa ed altre notizie di cronaca nel prossimo servizio curato da Federico Balletti Un marocchino di 29 anni è stato accoltellato in una violenta rissa scoppiata la scorsa notte verso l'una in un cortile condominiale di via del lavoro è stato colpito con 5 fendenti al torace, ai glutei è ora ricoverato in rianimazione all'ospedale Maggiore ad affrontarsi, secondo il racconto dei cittadini che hanno chiamato il 113 era un gruppo di almeno 10 persone tutti stranieri all'arrivo delle forze dell'ordine però a terra era rimasto solo il ferito era stata una bolognese di 22 anni a rapinare qualche giorno fa la lavanderia all'orsetto lavatore di via Rivareno aveva minacciato con un coltello il titolare facendosi consegnare una settantina di euro la polizia l'ha arrestata al termine delle indagini appena avviate invece su un'altra rapina messa a segno ieri in una farmacia di via Lefelsina senza mostrare armi un bandito ha costretto la farmacista a consegnarli 200 euro un aspirante suicida che voleva buttarsi da un cavalcavia sulla A14 poco dopo San Lazzaro è stato salvato dalla polizia che durante le operazioni ha anche interrotto per alcuni minuti il traffico sulla carreggiata Sud l'uomo, un trappanese di 34 anni ha scavalcato alla rete metallica di protezione ha cominciato a sporgersi e a minacciare di buttarsi un poliziotto e un carabiniere sono riusciti ad avvicinarsi a parlare con lui poi lo hanno afferrato per le braccia proprio quando si è lasciato andare il siciliano che non ha voluto spiegare i motivi del gesto è stato ricoverato all'ospedale Sant'Orsola e cambiamo argomento il comune di Bologna è pronto a vendere gli immobili pubblici per creare una sorta di tesoretto necessario ad affrontare la manovra economica del governo lo ha annunciato oggi la vice sindaco che ha la delega anche al bilancio Silvia Giannini il comune è pronto a cedere anche le quote delle società partecipate vediamo vendere le proprietà immobiliari comunali per far fronte alla manovra del governo e questa la via ipotizzata dalla vice sindaco con delega al bilancio Silvia Giannini durante la seduta della commissione la Giannini ha spiegato che sulle casse comunali si abbatterà la mannaia dei tagli e del patto di stabilità la stima che abbiamo fatto è che dobbiamo produrre un attivo di circa 60 o più milioni di euro ha spiegato la vice sindaco in realtà secondo le stime del Sole 24 Ore sarebbero 78 milioni in questa situazione ha proseguito se anche usassimo tutta la leva tributaria che abbiamo attualmente solo l'innalzamento dell'IRPEF dallo 0,7 allo 0,8% e la tassa di soggiorno al massimo potremmo compensare il taglio delle risorse statali pari a 12 milioni di euro e allora ecco la soluzione prospettata dall'amministrazione vendere gli immobili di proprietà comunale è preferibile vendere le case acera agli inquilini se le vogliono acquistare piuttosto che chiudere le scuole di infanzia è il ragionamento della vice sindaco allo stesso modo saremo costretti a vendere ma forse anche a svendere le società partecipate ha ipotizzato ricordando che era adesso vale un terzo per la verità va anche ricordato che a Bologna c'è chi da anni suggeriva di vendere quote della multi utility voci inascoltate e ora si rischia di chiudere il recinto dopo che sono scappati i buoi intanto oggi hanno parlato della manovra anche le categorie economiche sia Ascon Bologna che CNA criticano l'aumento dell'IVA contenuto nell'ultima versione della manovra ma condannano anche la condotta della CGL cioè la strategia del conflitto azienda per azienda come la definisce il numero uno di Ascom Enrico Postacchini e sempre oggi l'amministrazione comunale di Bologna si vede però arrivare in cassa dallo Stato una parte dei fondi per Palazzo Pizzardi e gli altri uffici nell'assestamento di bilancio 2011 approdato oggi in commissione infatti c'è un rimborso da 2,9 milioni di euro per gli uffici giudiziari una serie di banchetti per avvicinare i cittadini al PDL quanto si propone di fare il consigliere comunale Lorenzo Tomassini vediamo il servizio di Giuseppe Piloni rilanciare il PDL stando tra la gente questa è l'iniziativa lanciata dal consigliere comunale Lorenzo Tomassini da oggi fino a Natale allestiremo una serie di banchetti sul territorio ha spiegato Tomassini ma da oggi fino a Natale noi metteremo in campo una serie di banchetti territoriali perché il nostro motto è stare tra la gente per rilanciare il PDL sappiamo che c'è un momento di criticità dettato dalla situazione nazionale però vogliamo far capire alla gente che sul territorio il partito c'è i dirigenti sono tra la gente per raccogliere i problemi e portarli nelle sedi istituzionali parallelamente garantiremo il tesseramento cioè l'adesione al partito a chi lo vorrà questo per allargare la base elettorale e per dare sempre maggiore sovranità a coloro che scaturiranno dai prossimi congressi di novembre sono queste polemiche che riguardano Valentina Castaldini e i rimborsi che ha chiesto per un'iniziativa diciamo in area comunione e liberazione pare che anche la procura apra un fascicolo conoscitivo lei cosa pensa di tutto questo ma francamente io mi auguro che questa questa faccenda si chiuda nel più breve tempo possibile spero che la procura faccia presto e bene e chiuda una situazione che forse secondo me è stata dettata da un'imprudenza o da un equivoco adesso non spetta a me dire dico soltanto che simili dichiarazioni io non le avrei rilasciate anche quelle che ho letto oggi mi hanno lasciato davvero sbalordito la gente ci misura per il rispetto che abbiamo dei soldi pubblici dico che certe dichiarazioni mi sono sembrate davvero fuori luogo il centro storico per una volta aperto al traffico pedonale il tutto per valorizzare appunto il centro di Bologna e le sue bellezze sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Simona Iannessa nel weekend del 17 18 settembre arriva sotto le due torri il T-Days ovvero l'apertura straordinaria delle vie indipendenza Rizzoli ed Ugo Bassi i bolognesi dunque potranno camminare liberamente a piedi lungo le vie principali della città solitamente ostaggio di bus auto e taxi a fare da contorno dalle 9 alle 22 la musica della strada del jazz nel quadrilatero lo shopping con i negozi aperti fino a tardasera il mercato della terra allestito nel cortile di Palazzo d'Accursio e tante tantissime iniziative per i più piccoli i T-Days sono per noi il biglietto da visita verso l'Europa con cui Bologna si presenta per la nuova stagione della svolta ecologica quindi sono innanzitutto una pedonalizzazione della T molto attesa in città ma per noi rappresentano anche qualcosa di più un'apertura straordinaria di un distretto fatto di commercio di cultura di tempo libero di socialità un bentornato ai cittadini dopo l'estate prospettive per il futuro lavorare su un piano integrato di pedonalizzazioni per il centro storico che siano però basate su un'idea più complessiva di valorizzazione e marketing territoriale in accordo con tutte le componenti della città residenti commercianti e istituzioni ci fermiamo adesso c'è la pubblicità torniamo tra poco i nomi studio con ETG prima di proseguire come sempre rivediamo il sommario del nostro telegiornale abbiamo fatto tutto il possibile dicono i medici del Sant'Orsola dopo la morte delle gemelle Siamesi e i genitori fanno sapere che tutti i figli sono un dono meraviglioso sempre anche quando hanno dei problemi si era rifatto una vita e una famiglia in Spagna ma dopo due anni di latitanza Maurizio Ragno è stato arrestato dai carabinieri il 56enne deve scontare quasi 10 anni di carcere ed è sospettato di contatti con un boss dell'Andrangheta per fare cassa e compensare i tagli imposti dalla manovra economica il comune di Bologna pensa alla vendita degli immobili pubblici in primis gli alloggi Acer che gli attuali inquilini sono disposti a comprare l'ex ribelle berlusconiano Lorenzo Tomassini critica duramente la collega Valentina Castaldini che ha partecipato a Sorrento ad un'iniziativa di comunione e liberazione facendosi pagare la trasferta dal comune è bene fare chiarezza dice Tomassini presentata la pedonalizzazione della T. Ugo Bassi Rizzoli Indipendenza di sabato 17 e domenica 18 settembre mobilitati i commercianti che si stanno organizzando per trasformare il centro storico di Bologna in un salotto piacevole e suggestivo andiamo avanti con il telegiornale la Banca di Bologna lancia un'iniziativa che si propone di avvicinare i ragazzi delle scuole al mondo delle imprese e delle banche vediamo di cosa si tratta in questo servizio raccontare e fare conoscere le imprese ai ragazzi questo è l'obiettivo dell'iniziativa della Banca di Bologna che coinvolgerà fino ad un massimo di 100 classi delle scuole medie di Bologna e provincia si partirà con un progetto legato alla conoscenza dell'impresa banca ed è un'iniziativa che come dire prosegue il filone che abbiamo iniziato quando abbiamo fatto questa l'operazione sulle porte di Bologna al termine della quale abbiamo coinvolto per far esprimere sulla città i ragazzi circa 11.000 bambini ecco quando partirà questa iniziativa? il 13 di settembre ci sarà sul sito la disponibilità per le classi di potersi iscrivere perché sarà limitata a 100 classi delle scuole medie seconde e terze il Comune ha dato il patrocinio non oneroso all'iniziativa in particolare però ha anche deciso di dare una collaborazione attiva nel senso che io farò parte sono stata disegnata dall'assessore a far parte della commissione che valuterà gli elaborati dei ragazzi quindi parteciperò a tutte le fasi e cercherò anche di aiutare con la comunicazione alle scuole in particolare del Comune di Bologna quindi concretamente saranno vere lezioni durante la mattinata? la banca sta producendo un elaborato un video che verrà illustrato nelle scuole più ci sarà del materiale che in autonomia i ragazzi e gli insegnanti potranno utilizzare e da questo verranno presi gli spunti per gli elaborati che poi la commissione avrà modo di valutare la cosa che mi sembra molto positiva è che non viene premiato il singolo ragazzo ma la classe che partecipa con un buono viaggio per un viaggio di istruzione di tutta la classe quindi anche a consolidare non c'è un vincitore all'interno della classe ma è la classe che porta a casa il risultato parliamo adesso di uno spettacolo benefico che si terrà venerdì sera all'arena Parco Nord di Bologna sul palco star della musica leggera ma anche del cabaret si esibiranno per raccogliere fondi per l'Unicef l'evento si intitola CPL Life Smile and Songs vediamo Alex Britti Max Gazze Noemi e poi ancora Bazz Giacobazzi Calabrugovic è questo il cast che venerdì sera alle 21 salirà sul palco dell'arena Parco Nord per il CPL Life and Songs l'evento benefico organizzato da CPL Concordia e da Unicef con il patrocinio della regione Emilia Romagna della provincia e del comune di Bologna per aiutare le popolazioni del corno d'Africa è un'occasione per noi per parlare di questa crisi umanitaria nel corno d'Africa perché abbiamo notato come l'Italia sia un po' assente in questa corsa di solidarietà verso queste popolazioni sono oltre 12 milioni e mezzo di persone coinvolte da questa carestia e noi crediamo che anche attraverso questo evento che ci viene offerto da CPL Concordia si possa in un qualche modo informare l'opinione pubblica bolognese e regionale su questa emergenza umanitaria che ahimè è un po' dimenticata dai nostri media è giusto che anche le imprese si facciano carico di queste necessità quindi accompagnino queste organizzazioni di volontari in queste cose anche se è sempre più difficile perché ovviamente in questo contesto economico si tende sempre a chiudersi in se stessi ecco quindi che credo che se non avessimo la disponibilità nei confronti dei più deboli vorrebbe dire che cominciamo a morire sappiamo che la crisi economica è in calza fortemente però è fondamentale questo contributo che si dà generosamente approfitto anche da qui per lanciare il messaggio insomma Bologna dimostri di essere fortemente disponibile per questo progetto parteciperanno alla serata anche Paola Saluzzi e Nancy Squitieri l'evento sarà trasmesso in diretta da HSE24 canale 37 del digitale terrestre si potranno fare donazioni anche da casa un'altra breve pausa pubblicitaria tra poco ancora in studio con ETG per un'ultima segnalazione questa sera il Bologna Calcio sarà ospite della festa dell'unità di Parco Nord in una serata condotta da Sabrina Orlandi Andrea Mingardi e Maurizio Cevenini interverranno il presidente Albano Guaraldi l'allenatore Pierpaolo Bisoli e il capitano Marco Divaio l'intera serata sarà trasmessa integralmente in diretta a partire dalle ore 21 su ETV Rete 7 per questa l'ultima notizia prima di chiudere come sempre rivediamo i principali argomenti del nostro telegiornale abbiamo fatto tutto il possibile dicono i medici del Sant'Orsola dopo la morte delle gemelle Siamesi i genitori fanno sapere che tutti i figli sono un dono meraviglioso sempre anche quando hanno dei problemi si era rifatto una vita e una famiglia in Spagna ma dopo due anni la latitanza dorata di Maurizio Ragno è stata interrotta dai carabinieri che lo hanno arrestato il 56enne deve scontare quasi 10 anni di carcere ed è sospettato di contatti con un boss dell'Andrangheta per fare cassa e compensare i tagli imposti dalla manovra economica il comune di Bologna pensa alla vendita degli immobili pubblici in primis gli alloggi Hacer che gli attuali inquilini sono disposti a comprare l'ex ribelle berlusconiano Lorenzo Tomassini critica duramente la collega Valentina Castaldini che ha partecipato a Sorrento ad un'iniziativa di comunione e liberazione facendosi pagare la trasferta dal comune e bene fare chiarezza dice Tomassini presentata la pedonalizzazione della T. Ugo Bassi Rizzoli in dipendenza di sabato 17 domenica 18 settembre mobilitati i commercianti che si stanno organizzando per trasformare il centro storico di Bologna in un salotto piacevole e suggestivo con questo è davvero tutto il nostro telegiornale schiude qui grazie per averci seguito vi auguro una buona serata Grazie a tutti